Sono feste e negozi organizzati in forma ecologica, non sono una novità ovviamente, lo saranno per Teramo se verranno approvati gli emendamenti che avevamo già proposto nella seduta passata del Consiglio Comunale e che il Sindaco si è impegnato a far propri appena possibile. Si tratta di negozi che contribuiscono alla tutela dell'ambiente attraverso l'uso di prodotti sfusi, la vendita e la distribuzione di prodotti sfusi che quindi possono essere acquistati attraverso dei contenitori che porta dietro il cittadino, quindi contenitori riutilizzabili. Le ecofeste sono quelle feste di quartiere, di associazione, di città che utilizzano stoviglie riutilizzabili e non stoviglie monouso e che si impegnano a compattare almeno il 70% della raccolta differenziata in maniera tale di renderlo facilmente disponibile per il ritiro da parte di Teramo Ambiente. L'iniziativa, secondo il progetto del leader arancione, porterebbe un ritorno immediato per le casse comunali e di conseguenza per le tariffe Tari da applicare ai Teramani. Grazie ad un incentivo che si sconterà direttamente dalla Tari sarà possibile contribuire in maniera attiva alla tutela dell'ambiente e ad una riduzione dei costi delle tariffe, perché non dobbiamo dimenticare che la raccolta differenziata è quella che ci permette di vendere poi le materie prime e ricavarne somme da destinare all'abbattimento del servizio di raccolta. Quindi più ricicliamo, più risparmiamo e conseguentemente possiamo chiedere al Comune di abbassare i tributi locali. Ma, conclude Pomante, avrebbe soprattutto un forte valore educativo consentendo ai cittadini di conoscere in modo diretto i vantaggi legati all'uso di contenitori riutilizzabili.